Questo progetto nasce per le scuole medie di Comiso, sia la Verga che la Pilatelle, un progetto sulla legalità e sul rispetto delle regole nella società civile, un progetto che abbiamo voluto quest'anno affrontare come Lions Club di Comiso, proprio per dare convinti che la nostra proposta sia sicuramente valida, perché dobbiamo tenere presente oggi come oggi il ruolo educativo che le scuole svolgono e quindi dobbiamo fare leva su questo come club service sicuramente, per parlare con i giovani, per interfacciarci con i giovani, soprattutto nell'età adolescenziale, che sappiamo essere un'età carica di problematiche. Siamo convinti della validità del progetto, speriamo che vada per il meglio e che ci sia una larga partecipazione e soprattutto che abbia un futuro nei prossimi anni, sempre come progetto.